Un alone di mistero avvolge ancora oggi la vicenda della giovane ragazza taurianovese, Sissi Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria, che si trova in coma dal novembre 2016 a causa di un colpo di pistola esplosso dalla sua arma di ordinanza mentre era in servizio in un ospedale di Venezia. Un caso bollato sin da subito come tentato suicidio che si è però scontrato con la ferma intransigenza della famiglia a fare luce su questa storia che presenta molti lati oscuri, tante incongruenze che a detta dei familiari della ragazza di taurianova stridono con l'amore per la vita da parte di Sissi. Ma oggi il caso di Sissi Trovato Mazza, che si trova ricoverata in stato vegetativo a Zingonia, in provincia di Bergamo, presso una struttura riabilitativa ha trovato l'ennesimo ostacolo, un imprevisto che ha fatto sprofondare il nucleo familiare di Sissi nell'ennesimo abisso la comunicazione della decisione di sospendere lo stipendio all'agente penitenziario. Una notizia che è stata accolta con profondo sgomento ed indignazione dal padre della giovane taurianovese che ha espresso parole di rabbia per l'alto tradimento dei vertici del corpo nei confronti della dignità di Sissi. Mia figlia onorava la sua divisa, rispettava i colleghi e i detenuti, ha dichiarato il padre Salvatore Mazza, e invece è stata abbandonata dal suo corpo di polizia. Provo vergogna nel dire che appartenesse a quella istituzione. Nel tentativo inoltre di tenere alta l'attenzione su un episodio che rischia di finire troppo presto nel dimenticatoio, Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, annunciando il ricorso allo sciopero della fame finché non verrà fatta chiarezza sul giallo di Sissi. Le parole del padre di Sissi dovrebbero pesare come macigni sulla coscienza di tutti, a cominciare da chi ha la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria di donne e uomini in divisa che quotidianamente prestano servizio nelle nostre carceri al rischio della propria incolumità.